buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con voi per parlarvi di una nuova linea di prodotti una linea che esiste da qualche mese molti di voi mi hanno chiesto di parlarne in maniera approfondita vediamo insieme di cosa si tratta allora innanzitutto è la linea della turtle walks che è un'azienda americana tutti noi la conosciamo diciamo che come vi ho detto in altri video è un'azienda che ho un po snobbato nel corso del tempo perché appunto fa prodotti anche da supermercato quindi pertanto è difficile definire qual è il prodotto più professionale adatto a noi adatto al professionista piuttosto che un prodotto invece di bassa qualità però nella nuova linea hybrid solution hanno fatto veramente un grande salto di qualità dopo averli testati per qualche mese ho deciso di inserirli nello shop una considerazione generale su questa linea è una linea basata su polimeri ceramica e quant'altro per garantire la durata di un anno di protezione sulla vettura tutto si basa su questo qui sul coating quindi questo è un trattamento che stando a quello che dice l'azienda se applichiamo due mani abbiamo un anno di durata però poi abbiamo tutta una linea per farci un corretto mantenimento quindi vi dico già da subito che se voi vi basate solo su questo sul coating non avrete un anno reale così come succede con tutte le aziende chiaramente le aspettative sono molto più alte di quelle che la realtà spesso però vi dico che se utilizzate con criterio tutti gli altri prodotti della linea potete davvero arrivarci quindi tutto tutta questa linea che vedete gira attorno al coating coating del quale in questo video non ne parliamo perché perché sta arrivando l'inverno pioverà e avremo quindi la possibilità di vedere su un video separato quali sono le prestazioni reali di questo prodotto per adesso in questo video cercherò di accorpare le considerazioni relative agli altri quattro prodotti cominciamo a vedere di cosa si tratta in linea generale abbiamo uno shampoo neutro che può essere utilizzato anche con lancia foam uno shampoo protettivo una wet wax quindi una cera spray da applicare ad auto bagnata e un quick detailer ma ricominciamo a parlare di questo questo è un prodotto a ph neutro che come dicevamo può essere utilizzato sia per fare un pre lavaggio neutro sulla vettura ma la cosa che mi è piaciuta di più di questo prodotto è che pur essendo molto liquido a differenza di altri shampoo una volta messo nel secchio e agitato crea una schioma talmente densa che vi lubrifica ok mi ha stupito più nel secchio che su lancia foam infatti su lancia foam la schiuma è buona però dobbiamo utilizzare qualche ml in più per avere lo schiumone che che desideriamo tanto mentre sul secchio possiamo avere un dosaggio tranquillamente paragonabile ad altri shampoo pertanto diventa anche una soluzione economica profumo buonissimo che cos'è che rende particolare questo shampoo soprattutto in questo contesto che pur non essendo protettivo in sé riesce a lavorare molto bene con i polimeri degli altri prodotti anzi li contiene già quindi ripeto è un concetto un po particolare da descrivere non è uno shampoo protettivo ma già dopo tre quattro lavaggi che lavate la macchina con questo avrete un leggero effetto spacca acqua perché la base polimerica è la stessa però di base vi ripeto non è uno shampoo che usate vi dà idro repellenza quindi si adatta molto bene anche a lavorare con altre linee quello che ci interessa di più è che è il perfetto shampoo da mantenimento per la linea passiamo al wash and walks che invece è un vero e proprio shampoo protettivo a differenza dell'altro questo quasi non genera schiuma quindi vi dà anche una sensazione strana quando andate a pulire la macchina perché non vedendo schiuma dite ma questo shampoo lubrifica non lubrifica sto graffiando o no no la lubrificazione è ottima perché c'è un un polimero brevettato nella hybrid solution che lubrifica tantissimo e quindi riduce al minimo il rischio dei graffi ma già con un solo lavaggio avrete una protezione pazzesca da questo prodotto piccola parentesi non è la prima volta che parliamo di una linea completa per esempio ne abbiamo parlato con la linea dell'autobright la linea ceramica composta da quei tre prodotti a differenza di quella però riesco a vedere anche i prodotti presi singolarmente con un senso ok quindi mentre nella linea autobright nel momento in cui cominciamo a scorporare i prodotti dal kit non ha più molto senso qui anche i singoli prodotti hanno una vita a sé e possono essere utilizzati uno alla volta questo per noi è un vantaggio perché metti che all'inizio non voglio comprare tutti i prodotti ma ne voglio comprare uno alla volta io comincio già da subito ad avere degli enormi benefici torniamo a parlare di questo prodotto qui mi ha stupito perché riesce a proteggere e lasciare la macchina idrorepellente più glossata e mantiene un effetto anti sporco notevole già dal primo lavaggio io adesso mentre io parlo vi metterò in sovrimpressione una una dimostrazione fatta sulla mia cona ho sgrassato completamente un pannello in modo da farvi vedere che non c'era idrorepellenza ho passato la spugna con il prodotto con il prodotto e vedete che come già al primo risciacquo si riesce ad avere un enorme idrorepellenza cosa particolare di questo prodotto non viene dichiarata ufficialmente una diluizione tipica quindi noi possiamo cominciare dalla diluizione tipica di un paio di bicchierini da caffè in un secchio da 10 riempito di 10 litri d'acqua possiamo aumentarla o diminuirla in base alle nostre esigenze come li vedo questi due prodotti lavorare insieme abbiamo un pochino come abbiamo detto per quanto riguarda i prodotti della mania client shampoo normale shampoo protettivo se abbiamo budget in questo caso si può utilizzare questo shampoo a tutti i lavaggi ma io lo vedrei bene in questo modo tutti i lavaggi con lo shampoo neutro che ovviamente costerà anche meno un lavaggio al mese con questo sia che abbiamo utilizzato il coating che non lo abbiamo utilizzato passiamo alla wet walks questo è un prodotto fantastico probabilmente probabilmente di tutta la linea il mio preferito perché perché dà prestazioni eccezionali con una semplicità mai vista prima questo è un prodotto è una cera basata sul polimero lo stesso polimero del del coating che vi dà già con una sola applicazione alcuni mesi di protezione la cosa bella è che tu che fai lavi la macchina a prescindere dai prodotti che ho utilizzato prima quindi non siamo obbligati a utilizzare questi su macchina bagnata una spruzzata o due per pannello e ci asciughiamo sopra può sembrare banale ma l'asciugatura verrà perfetta e vi dà un'idro repellenza pazzesca già dopo il primo intervento anche in questo caso per dimostrarvelo ho decerato un pannello come potete vedere non c'era idro repellenza dopo l'applicazione semplicissima di questo prodotto ribagniamo il pannello e vedete che c'è una discreta idro repellenza tutti i post lavaggi quindi durante l'asciugatura quando non uso questo prodotto perché questo è un prodotto che utilizzerò una volta ogni mese una volta ogni due mesi ok quindi essendo una cera protettiva non andrò a metterlo tutti i lavaggi perché altrimenti vado a stratificare troppo e diventa anche un costo per me questo invece è il prodotto che posso utilizzare a tutti i lavaggi 3 in 1 detail perché 3 in 1 diciamo che è un prodotto che si presta a fare varie cose può essere utilizzato su macchina asciutta come cera spray un po blanda e dà una discreta idro repellenza anche in quel caso può essere utilizzato su macchina bagnata mentre stiamo asciugando quindi con l'obiettivo di lubrificare il più possibile il nostro panno durante l'asciugatura e quindi creare meno graffi possibili il terzo utilizzo che se ne può fare è il lavaggio a secco lavaggio waterless quindi spruzziamo sulla superficie aspettiamo qualche secondo passiamo il nostro panno in microfibra e abbiamo lavato la macchina ogni volta che laveremo la macchina aggiungeremo polimeri al alla struttura a questo pacchetto che abbiamo costruito viene poi il coating che abbiamo detto che ne parliamo in un altro in un altro video quindi considerazioni finali di questo in questo video riguardo questa linea una linea a mio avviso fantastica ha dei pregi i pregi sono una semplicità d'uso eccezionale prestazioni notevoli insomma sicuramente da provare se devo dirvi un difetto chiaramente come potete vedere il costo è un po alto è alto per due motivi innanzitutto sono prodotti americani quindi nel mezzo ci sono dei costi di importazione ma una cosa che non deve portarvi fuori strada è che i prezzi si sono alti ma i formati sono più grandi quindi abbiamo le cere tutti i protettivi che sono da mezzo litro e quindi già di per sé non è una cosa scontata perché alcune cere le vendono da 250 ml quindi il confronto lo dovremmo fare con quel ma gli shampoo hanno dei formati all'americana per esempio qui abbiamo un litro e 42 quindi quasi un litro e mezzo di shampoo il triplo del formato standard anche in questo caso lo shampoo neutro che può essere utilizzato anche come pre lavaggio neutro abbiamo solo la tannica da 2,5 litri quindi fatevi un conto sulla bilancia vi renderete conto che alla fine non è che costano così tanto penso di avervi detto tutto ragazzi le prestazioni le caratteristiche pro e contro di questi prodotti come al solito rimango a vostra disposizione per rispondere ai vostri requisiti e arrivederci alla prossima puntata